dareste meno importanza le grandi profezie sul futuro dell'umanità Amadeus Volben a cura di VB Mediterranea Ramatis duemila anni fa il più grande di tutti i profeti vi avvertì che sarebbero stati giudicati i vivi e i morti che i buoni si sarebbero seduti alla sua destra e i cattivi alla sua sinistra le pecore sarebbero state separate dai lupi e il frumento dall'erbaccia la vostra umanità ha dimostrato fiducia in questa predizione di Gesù preoccupandosi della gravità del giudizio finale o per la possibilità di essere esiliati verso i mondi infernali dove esiste solo il battere dei denti se dopo tanto tempo ricordaste il Vangelo che vi porta verso la destra di Gesù è ovvio che dareste meno importanza alle profezie che sono di ordine secondario grazie a tutti Grazie a tutti